Il Palazzo Ducale di Urbino dedica un'interessantissima mostra a un maestro del rinascimento italiano, il Perugino, maestro di Raffaello. Frutto della collaborazione tra la Galleria Nazionale delle Marche, la Regione Marche, il Comune di Urbino e curata da Vittorio Sgarbi. E continuiamo, forse in attesa del centenario di Perugino che ricorre nel 2023, a studiare Raffaello il rapporto con quello che è sul piano emotivo la cosa per me più intima e carica di sentimento. E cioè l'amore che suo padre Giovanni Santi, che era veramente urbinate, nato urbino, attivo qui, attivo alla corte, mentre Raffaello non lo è. Di fatto i suoi capolavori li fa subito fuori, ci sta di Castello, poi a Perugia, poi a Firenze, poi a Roma. E non ci sono opere sue qua, se non la muta che è arrivata dagli uffizi durante il ventennio fascista, quindi c'è un simbolo. Però di fatto il padre è urbinate e attivo in Montefeltro e ama a tal punto il figlio e tanto lo sente come il capolavoro della sua vita che si rende conto che ha dei limiti e cerca un maestro per lui, che sia il suo secondo padre, anche perché morirà quando Raffaello ha 11 anni, morirà nel 1494. E a quel punto è riuscito però a compiere il miracolo. Il più grande pittore del tempo, che poi sarà Raffaello, ma in quel momento era perugino, accoglie Raffaello giovane, undicenne, nella sua bottega. Questo momento è talmente meraviglioso che basterebbe raccontarlo, qualcosa che poteva emozionare il nostro Tonino Guerra o le persone sensibili, o Giovanni Pascoli, perché è proprio l'intensità dell'amore del padre per il figlio. E però si può anche rappresentare con opere per capire quale affinità, quale contiguità, e soprattutto a Fano, dove lavora nel 1497 perugino, già Raffaello è sicuramente con lui, ha 14 anni e quindi qualcosa, un volto, una mano, anche con il padre sicuramente a 9-10 anni era intervenuto, ma non è riconoscibile il suo stile. Invece maturare il suo stile dentro la bottega di Perugino è cosa che il Vasari indica e dice, perché vuole per l'appunto far capire che i due sono talmente simili che si confondono. Quindi Perugino sembra Raffaello, Raffaello sembra Perugino, e noi in questa mostra tentiamo di far sentire questa situazione e questa singolare coincidenza. Questa mostra che Vittorio, il mio prosindaco, ha voluto fortemente, ma è la continuazione, come ha detto lui, delle celebrazioni, perché purtroppo il 2020, che è stato l'anno delle celebrazioni di Raffaello, e celebrare insieme a lui il suo maestro è veramente un onore in questa città e quindi questa bellissima mostra che è stata allestita vuol dire anche ripartiamo in modo adeguato, con attenzione, però dobbiamo avere la spinta per ripartire. Quindi questa mostra vuol far ripartire Urbino insieme a tutti quanti per cercare di ripartire, ma in sicurezza, e quindi approfitto di questa occasione per invitare tutti a vaccinarsi, perché è l'unico modo per uscire da questa condizione che ci renderà liberi. Quindi questa mostra io la voglio dedicare alla libertà del nostro popolo per essere liberi e vaccinarsi. Questa è una mostra straordinaria che finalmente inauguriamo qui in presenza, perché questa presenza ci è mancata tantissimo in questo periodo di chiusure. Celebriamo questo 500 centenario di Raffaello con il perugino che poi è stato il suo maestro. E quindi questo è un percorso di una mostra che ci dà anche un messaggio importante di come sia fondamentale l'insegnamento, anche nell'arte. E quindi io essendo anche assessore all'istruzione, ecco, abbiniamo cultura e istruzione, come l'arte viene tramandata. E devo dire che in questo caso abbiamo visto come anche l'allievo supera il maestro. Quindi è una mostra che ci dà anche questo insegnamento e spero, visto che siamo in questo periodo di riaperture, che tantissimi turisti, tantissimi marchigiani anche verranno a visitarla, perché ne vale veramente la pena. E come Regione Marche siamo stati veramente contenti di sostenere una mostra di livello come questa. Ringrazio ovviamente Vittorio Sgarbi che ha curato tutta la mostra. Abbiamo inaugurato recentemente anche ad Ascoli una mostra sempre curata da lui. Quindi diciamo che le Marche adesso sono piene di eventi e quest'estate, insomma, si sente ancora più la presenza della cultura, della bellezza, che comunque finalmente ci inonda e ci fa rinascere per una bella ripartenza.